Il sindaco, anziché scaricare le colpe sugli altri, si renda conto delle proprie responsabilità in merito alla grave situazione deficitaria nella quale versa il comune di Andria. Dalle parole del consigliere comunale di Forza Italia Antonio Nespoli emerge un segnale netto e chiaro. Dopo lo scioglimento anticipato del consiglio comunale di Andria di venerdì 9 novembre, per mancanza del numero legale, le polemiche non accendono a placarsi. Anzi, quella che affiora prepotentemente è una profonda spaccatura tra il sindaco di Andria Nicola Giorgino e la propria maggioranza. Il primo cittadino con un post su Facebook pubblicato il 10 novembre scorso ha accusato i consiglieri comunali di Forza Italia, che non si sono presentati nel corso della Massima Sise, di essere degli irresponsabili, invitandoli per questo alle dimissioni. E la risposta del consigliere comunale Antonio Nespoli non si è fatta attendere. Il sindaco farebbe bene a farsi una mia colpa e a capire bene chi sia il responsabile di questa situazione, perché lui non ha per niente nell'onestà e nel coraggio di tentare di capire quello che gli altri stanno tentando in tutti i modi di dirgli. Si sta sbagliando nell'andare avanti, si sono scelte che vengono assunte che non sono assolutamente condivise, e mi riferisco a tutti i servizi tagliati o che si stanno facendo saltare relativi al settore pubblica istruzione con grave ripercussione nelle nostre famiglie. La mia assenza era voluta e l'ho resa plasticamente nota. E quindi è chiaro che se nessuno vuole ascoltare quello che si cerca in tutti i modi di dire, bisogna mettere in campo delle azioni conseguenziali. Credo che il sindaco con questi insulti, queste denigrazioni, stia superando ogni limite. Credo che al posto suo farebbe bene più a preoccuparsi dell'autorevolezza morale dei presenti, piuttosto che degli assenti. Quella denunciata dal consigliere comunale Antonio Nespoli è la totale assenza di un confronto con il primo cittadino, a maggior ragione su questioni delicate come la sottoscrizione del piano di rientro. Non abbiamo avuto assolutamente modo di visionarlo. Abbiamo fatto alcuni incontri che erano relativi esclusivamente ai problemi della riflessione scolastica. Aspettavamo che ci venisse fornita la documentazione utile a fare tutta una serie di valutazioni e che potevano quindi consentire anche di rivedere il taglio di alcuni servizi. Ma non abbiamo avuto più nessuna convocazione, non ci è stato fornito alcun documento. Apprendiamo di notizie di corridoio, ma che non sappiamo con quale fondatezza le stesse siano divulgate. E a questo a soli due mesi dalla scadenza del termine per approvare un piano di rientro. Il sindaco deve smetterla di pensare che lui soltanto sia baciato dal bene e chi non la pensa come lui sia baciato dal male. C'è bisogno di un confronto e anzi quello che è accaduto in questi anni dimostrano che le responsabilità maggiori siano a lui ascrivibili e non certo ad altre.